di seguirmi su instagram, twitch, youtube se siete nuovi e soprattutto di lasciare like a questo video iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche ma prima intro bene oggi giocheremo a mini world yes raga si in italia perché c'è la schermata di caricamento come sempre allora inizialmente su mini world vi danno un'ascia un piccone cinque torce tre pezzi di carne e l'armatura completa ok è arrivata mia sorella a rovinare tutto e vabbè non fa niente comunque ho aperto questi vasi alcuni di questi ho trovato quattro gomme da masticare non so che cavolo servono e un filo e del fagiolo palla vabbè comunque l'armatura ve la danno in pelle vi danno il kit già per iniziare l'avventura almeno così sul telefono però non so su su altre robe non so su pc o io so solo che c'è per pc e per telefono non so se c'è per player scrivetemelo qua sotto nei commenti comunque se volete ancora sto gioco perché effettivamente non è bruttissimo però alla fine minecraft e minecraft sempre minecraft e vabbè poi ci sono i pollai ci sono i pollai che servono per richiamare i polli cioè gli da un colpo e muoiono praticamente dobbiamo andare a mangiare allora avete sentito per una voce era mia sorella devo mangiare ora quindi ditemelo ancora se volete ancora sto gioco eh ditemelo ancora chiudi Anna vabbè ci vediamo in un prossimo video ciao scusate prima di far lento finale veramente stavolta penso che sto video sia durato pochissimo quindi scusate per il video corto ciao 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 ciao